Lavoriamo sulla Corea di Huntington, una malattia neurodegenerativa causata dalla mutazione del gene Huntington. È una malattia purtroppo senza cura. Il nostro obiettivo è capire i meccanismi alla base dell'Huntington per individuare nuovi bersagli e nuovi farmaci. La ricerca nell'ambito delle malattie neurodegenerative e in particolare della Corea di Huntington è mirata a contrastare la malattia. Quindi ci sono tante strade, tanti nuovi percorsi che intendiamo fare. Sicuramente una sfida del futuro è cercare di inattivare il gene malato nel paziente, bloccare la produzione dell'antintina mutata, la proteina che causa la malattia. Le cellule staminali sono importantissime e rappresentano un approccio rivoluzionario. Le usiamo in laboratorio per riprodurre i neuroni che muoiono nella malattia. Stiamo cercando di capire se questi neuroni possono essere utilizzati nel trapianto. C'è tanta ricerca in questa direzione e ancora tanto da capire. Ci causa la Corea di Huntington e sappiamo da poco che è un gene antico che è nato 800 milioni di anni fa nei primi organismi multicellulari e che poi nel corso dell'evoluzione è diventato sempre più importante per il nostro cervello. Quindi studiare la malattia di Huntington ci ha consentito anche di scoprire che l'antintina, questa proteina coinvolta nella malattia, nasce nell'evoluzione proprio per fare cervello, per rendere il nostro sistema nervoso sempre più complesso e questo è rivoluzionario perché abbiamo scoperto una proteina importante per il cervello andando a studiare la malattia in cui essa è coinvolta.